Le pagelle della Supercoppa Fineco, voti alti per tutte, sotto tono solo Danesi e Laniera. In questo nuovo video andiamo a vedere le pagelle per quanto riguarda la finale di Supercoppa italiana che si è svolta nel weekend. Ci appoggiamo per fare questo alle pagelle redatte da Volley News attraverso Alessandro Garrotta. Vi invito, qualora non siate d'accordo con queste pagelle, a lasciare un commento e a dirci quali sono, secondo voi, i voti che ogni giocatore dovrebbe prendere. La pallavola è quello sport dove si gioca 6 contro 6, ma alla fine vince sempre Prosecco Docchi Moco Conegliano. La squadra, allenata da Daniele Santarelli, supera e rimonta a 3-2 una combattiva numia verovolle Milano, che deve però fare a meno di Paolo Egonu e mette in baccheca l'ottava Supercoppa della sua storia, confermando quella fama di cannibale che le permette di alzare ogni trofeo in Italia dal 2019. Da maggio di quell'anno, infatti, non c'è alcuna competizione nazionale che sia stata vinta da un'altra squadra e questo offre la misura della grandezza dell'epopea della compagine giallo-blu, che si conferma ancora una volta quella da battere. Ma veniamo alle pagelle per scoprire le migliori e le peggiori dell'evento che ha dato il via alla stagione 2024-2025 di pallavolo femminile. Partiamo con la Prosecco Docchi Moco Conegliano. Johanna Wolosch votò 8. Qualora servissero controprove, l'alzatrice polacca ha dimostrato una volta di più di essere fondamentale, come nessun'altra per Conegliano, a fare la differenza e la sua distribuzione di gioco, che si adatta perfettamente alle diverse circostanze proposte dalle partite. Quando può utilizzare le centrali lo fa con regolarità. Quando la ricezione la fa correre nei momenti caldi si appoggia agli attaccanti di palla alta, che non si lasciano intimorire dal buon sistema a muro e difesa di Milano. E poi una voglia di trascinare, uno spirito di sacrificio e una dedizione da vera capitana. Per lei ha anche tre punti, di cui un bloc. Isabella Haack votò 6,5. Per una volta il premio MVP non è suo. Non che abbia giocato male, 20 punti, ma abituati a standard elevatissimi. Un 35% con 4 ore e 4 muri subiti suona un po' strano. Ormai ci siamo fatti la bocca buona. L'opposta svedese comincia il match con due set non eccezionali. 37% e 38% di positività lo continua calando, 18%, ma è decisiva nella volata della quarta frazione grazie al 50%. Probabilmente in alcune circostanze cerca soluzioni particolarmente difficili, aumentando un po' il proprio tasso di errore ed anche al servizio tira sempre a tutto braccio, incurante dei rissi, raccogliendo meno del solito un errore e 0 es. Gabi votò 7. Non sarà stata dominante come ci si aspettava alla vigilia, ma c'è anche la sua impronta nel successo contro Milano. La schiacciatrice è brasiliana, in attacca se la cava abbastanza bene, chiudendo con 16 punti e 43% di efficacia, numeri interessanti per il luolo, pur essendo anacquati da 2 errori e 4 muri subiti. Nulla di drammatico, soprattutto se si considera il suo contributo in ricezione. Destinatare di 30 servizi avversari su 84, ne serve alla sua palleggiatrice il 50% in maniera precisa e 40% perfetta. Da segnalare, però, 6 S subiti, quindi c'è ancora tanto lavoro da fare per amalgamarla nella linea di ricezione. Kale Alhanier, voto 5-5. Lontana dalla forma migliore, non riesce a tenere testa all'avversare producendo solo 2 punti e non svolgendo al meglio il suo compito di martello. Così, nonostante una buona prova in ricezione, 66% di ricezione positiva e 41% di perfetta, viene sostituita da Lukasic. Martina Lukasic, voto 7-5. Alzino la mano quanti alla vigilia della partita avrebbero scommesso sulla schiacciatrice polacca in versione, coniglio dal cilindro. I suoi meriti aumentano esponenzialmente se pensiamo quale è in grato compito coach Santarelli le affibi sostituire Alhanier nel momento più difficile per le venete. Martina non sente pressione e riesce a mettere in campo una prova di lucidità e carattere. 9 attacchi vincenti, un muro e un buon lavoro in difesa. Cristina Chirichella, voto 6-5. Si salva grazie a 3 muri vincenti, un discreto bottino, e dato che quello è il primo compito di una centrale, la sua prestazione è sufficiente e la porta a casa. Peccato che in attacco le cose vadano meno bene, perché oltre il 41% di realizzazione 5 su 12 spara a 8 una volta e subisce un bloc. 25% di efficienza offensiva. In battuta non raccoglie ace, ma almeno non incappa in errori come le accadeva spesso nelle ultime stagioni a Novara. Sara Far, voto 8-5. La numero 19, giallo-blu, si conferma una delle centrali più forti in circolazione. A Roma raggiunge un rendimento altissimo, MVP del match infatti, anche grazie alla grande fiducia che ripone lei Volosh, come dimostra il fantastico 73% in attacco su una buona quantità di assist, 14 su 19. La velocità del suo braccio e la capacità di girare la sfera e vedendo quasi sempre dal controllo delle braccia avversare ne fanno un vero incubo per la vero volle. Poi ci mette del suo muro due punti e trova anche un ace. A 23 anni sembra aver raggiunto un'affidabilità esemplare. Monica De Gennaro, voto 8. Milano non fa nulla per evitare l'asservizio e fa male perché è libero dell'imocco, serve palloni precisi uno dietro l'altro a Volosh. 78% di tocchi positivi e 60% di perfetti. In difesa non si ricordano salvataggi clamorosi, ma per un motivo preciso. I palloni neri recupera parecchi, ma lo fa grazie a un innato senso della posizione che le permette di toccare tanto senza farsi notare troppo. Andiamo a vedere invece la numia per volle Milano. Alessia Oro, voto 7. Se Milano mette in mosso una buona pallavolo nonostante l'assenza di Econo, parte del motivo va sicuramente alla palleggiatrice Salda, che riesce a trasformare in oro qualsiasi tipo di ricezione e gestisce le compagnie, capendo nei momenti e le fasi nel corso della partita. Poi, come al solito, Alessia risulta preziosa con alti fondamentali, qualche bella difesa, un muro e battute insidiose con cui prova a creare scompiglio nel sistema di ricezione Veneto, due es e un errore dai 9 metri. Elena Cazzut, voto 7.5. Strappo un buon voto perché riesce a creare grattacapi a Conegliano, pur essendo schierata nell'insolito ruolo di contromano e perché ha il suo 52% di positività in attacco. È una percentuale eccezionale se consideriamo che deve attaccare quasi sempre con il muro schieratissimo davanti. Viveva un passaggio vuoto solo nella seconda frazione, ma per il resto si dimostra garanzia. Per le compagnie, una spalla su cui si può contare. Alla fine, totalizza 17 punti di cui due muri, due es, a fronte dei 5 errori del servizio. Miran Silla, voto 8. La numero 17 della vero volley conferma la qualità di gioco mostrata nei mesi scorsi in nazionale. Mette a referto 24 punti col 42% di positività in attacco, 4 errori soli in attacco, un es e un muro e soprattutto si dimostra molto affidabile a estrarre dal cilindro bordate sul muro, diagonali strette, pallonetti e palle piazzate. Un tero campionario da posto 4 di livello assoluto. Inoltre, in ricezione se la cava discretamente, 50% di positività, 22% di perfetta e solo un es subito, considerando anche che si prende carico di ben 44 tocchi sui 99 complessivi, una mole di lavoro notevole. Nika D'Alderup, voto 6,5. Quando tutto fila liscio, dà l'impressione di essere un buon fattore, ma quando il gioco si fa duro non riesce sempre a mettere la palla a terra, denotando mancanza di killer instinct, 19 punti ma solo 2 nel tiebreak. Alterna colpi ottimi a colpi meno efficaci, insiste tanto, talvolta con poca lucidità, 36% di positività in fase offensiva, 3 errori e 2 muri subiti. Inoltre, il suo gioco risente di alcune imprecisioni. Nei fondamentali di seconda linea, 36% di ricezione positiva e 27% di perfetta, che ogni tanto finiscono per condizionarne anche le compagnie di squadra. Anna Danesi, voto 5. Non fosse per i due es che metta a sé. La prova della centale bresciana sarebbe gravemente insufficiente, perché in attacco viene servita poco e fatica a mettere a palla a terra. 3 su 8 e a muro non porta praticamente nulla alla causa della squadra, 0 bloc. Va considerato l'attenuante generica legata al fatto che leggere il gioco di Volos e bucare il sistema muro difesa di Conegliano è sempre difficile, ma se l'obiettivo era quello di vincere la Supercoppa, non potevamo esserci speranze senza il contributo di Anna. Laura Ehrman, voto 7,5. La centrale belga è brava a mettere in campo tanta sostanza e la sua prestazione è di ottimo livello. Presenta muro 5 muri, precise in attacco, 53% di positività, un errore e una stampata subita. Puntuale sulle fast dove sprigiona tutta la sua velocità, riesce a firmare 13 punti complessivi e tirare fuori tutta la sua grinta. Satomi Fukudame, voto 7,5. La caratteristica principale della sua partita è l'impossibilità a rendersi utile, almeno in ricezione. Non certo perché non abbia voglia di combattere, ma perché Limoko ha la rigorosa consegna di non battere mai su di lei. Basti pensare che tocca appena 15 palloni, gestendone in maniera positiva il 53%, è perfetta il 26%. Così deve dedicarsi quasi esclusivamente alla difesa, con profitti quasi straordinari. Quindi queste sono le pagelle di Alessandro Garrotta per Volley News. Io vi invito, come vi ho già detto, a lasciare un commento se siete d'accordo, oppure a indicarci quali sono le vostre pagelle. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Grazie.